Viviamo in un'atmosfera, in un ambiente, in un oceano di aspettative. Adesso mettiamo un attimo da parte le aspettative che uno ha di se stesso, mettiamole momentaneamente ma noi viviamo in una realtà che è costantemente influenzata, condizionata dalle aspettative di chi? Amici, colleghi di lavoro che sono o alla pare o è padrone, l'imprenditore, vicini di casa, parenti, la società, in Italia c'è il governo, le regole, anche la religione, tu sei cristiano, quando ti dipendi, quando è che torni da noi? Io ho visto alcune persone che si hanno allontanato dalla chiesa, ci sono rientrati morti dentro la bara perché i parenti le hanno riportate lì, quindi loro aspettano, giustamente, torna. Quindi aspettative, aspettative vuol dire dal verbo aspettare che uno si aspetta che tu sia come vuole lui, lei, loro. Questi loro si dividono in amici, parenti, colleghi, vicini di casa, inquilini, cittadini, governo, religione, tu vai all'estero è meglio che conosci le leggi perché là ci sono delle regole aspettative, no? Quindi in più molti hanno le loro aspettative, io mi aspetto di essere amato, rispettato, creduto, per quello che una volta si diceva il genio incompreso, io da bambino dico ma come il genio è compreso? Se uno è un genio non ha bisogno di essere compreso, si comprende da solo, si capisce. Se uno è un genio la prima regola che segue è, la prima qualità, la sua prima forza è io sto bene con me stesso, da solo e in compagnia. ecco la genialità, no? È un genio incompreso, ma perché cosa? Perché suona il violino e non interessa nessuno, e suona per te perché se ti piace suonare suona. Attenzione, le aspettative non va bene riceverle, ma non va bene neanche darle. Io sono cresciuto in una famiglia normale, 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 come tante altre, dove Ugo Cerquetti, il padre, aveva l'aspettativa che io entrassi in azienda, ma quale azienda? Io avevo un programma dalle incarnazioni precedenti, ho cominciato a spiegarlo e ho detto qua è meglio che sto calmo. Quando io nel famoso 1968 partì per l'India e ho rimesso i piedi sul Gange, sulle rive del Gange e lì è stata la mia incarnazione, prima parte, seconda parte e quando partì decisi che fin quando non avevo la certezza potevo essere anche frutto della mia immaginazione, però una grande immaginazione perché diventare vegetariano, parlare di reincarnazione, parlare in Italia tra il 1952, 1953, 1968, in una società che era totalmente lontana dall'alimentazione senza animali, dalla reincarnazione, erano tutti, seguivano la dottrina, quindi quando arrivai là la seconda parte della mia vita, sono certo di quello che dico, io sono certo, però ho tenuto conto delle aspettative che gli altri avevano di me e in qualche modo mi sono equilibrato, poi a qualcuno non gli va come faccio i video, quello che dico, eh vabbè, pensate che ho visto un video dove io parlo, ma non è la mia voce, qualcuno ha imitato la mia voce, usa me che muovo la bocca e dice delle cose, ma non sono io, ma io non ho tanto tempo per stare dietro a questa gente perché di aspettative ne ho viste tante, troppe, addirittura qualcuno mi ha scritto, ma come? Tu dici che questa è l'ultima incarnazione, sì, e noi come faremo? Io ho risposto un'email, ma noi chi sono? Una persona che non ho mai visto, come faremo senza di te? Beh, intanto ho scritto dei libri, intanto faccio dei video, poi se qualcuno ricava qualcosa di interessante, di utile, di spiritualmente buono, vai, eh? Però dico, se qualcuno ha fatto un video con i tagli e cucci, ma siccome non bastava, ha imitato la mia voce addirittura, no? Quindi adesso tu stai guardando YouTube, questo è originale, no? C'è chi mi ha scritto degli e-mail, ma sei proprio tu, Giorgio? Io gli ho detto, sì, cosa devo mettere? I documenti sull'email? Ma sei proprio tu? Ho qualcuno che risponde, pensate che aspettative, no? Ma sei tu, no? Quindi io dalla nascita ho visto che i genitori avevano aspettative sui figli, i parenti, gli amici, gli amici, poi vai a lavorare, i colleghi, un mio amico che non sta a fare il nome o fare un giornale alternativo, tu devi fare il direttore, cioè vieni qua, ma ha fatto avere un ufficio bellissimo, no? Ma io ti pago, vabbè io non ci vengo. Cioè come faccio io, con lo stile di vita che ho scelto, a stare otto ore al giorno in un ufficio bello in cui spiego agli altri come vivere in modo alternativo. Come faccio, no? Cioè? Ho collaborato, io collaboro, io collaboro, ho collaborato a tante riviste. Mi ricordo quando parlai con uno dell'agenzia dell'entrata, mi ha detto, ma queste riviste che tu hai fatto, non hai guadagnato niente, c'è anche scritto, in molte riviste c'è scritto, i collaboratori, il direttore, io, non guadagnano niente. Ma come ti mantieni? Con i libri, con i libri, perché forse non è che tutti nella vita hanno detto, poi io spendo poco, non fumo, non vado al cinema, non vado a teatro, non ho un'automobile, non guido la macchina, accetto passaggi ovviamente, sennò starei fermo, no? Consumo poco. Il mio soggiorno, la mia permanenza sul pianeta terra costa poco, per mia scelta. Ho fatto un calcolo di quanto costa uno che fuma un pacchetto di sigaro tal giorno in 30 anni, a parte il costo negativo della sua salute, anche il costo economico. Non ho mai comprato un disco, un cd, non ho mai avuto un giradischi, non ho mai avuto un motorino, una moto, una macchina, mai! E quelli sono soldi, sono soldi. Ho avuto fortuna, ho viaggiato in aereo e diverse volte sono stato avvicinato all'aeroporto da quello della compagnia che mi ha detto, guardi c'è stata una cosa, che cosa, c'è un overbooking, le dispiacerebbe viaggiare in business class? Io ho detto non mi dispiace. Finito con un piccolo episodio, ero negli Stati Uniti e dovevo andare da una città all'altra degli Stati Uniti e per comprare il biglietto, perché tu vai lì, compri il biglietto, parti, senza... c'era una fila di 20-30 persone, no? Allora, come tutte le file, ho chiuso gli occhi e ho pensato a Babaji, l'Himalaya, le incarnazioni passate, i miei viaggi in Italia, no? C'è punto, sento una mano sulla spalla, mi giro e vedo una donna bellissima, una hostess, che in c'è un overbooking, cioè noi non possiamo caricare tutti sull'aereo, perché guarda quanta gente che fa la fila qua. Allora, avevano già fatto la vendita, avevano già dato il tagliandoli, la carta d'imbarco, quindi le dispiacerebbe partire domani, le paghiamo l'albergo e gli diamo un voucher di 500 dollari da usare con la nostra compagnia, più prende l'aereo domani. Io sai cosa ho detto? Non mi dispiace, mi piace, però ho detto, io sono curioso, perché hai scelto me? E mi fa, sono andata su e giù, eri quello che aveva la faccia più serena, tu eri quello che aveva la faccia più serena, poi ho detto, questo qui? Ha detto lei in inglese, no? Questo qui sicuramente accetta, io ho ringraziato e accettato, quindi studia bene le aspettative, le tue, quelle degli altri e trova un equilibrio, perché a qualcuno che ha un'aspettativa, se tu non fai come dicono loro, l'aspettativa può essere sul sesso, sulla politica, sull'economia, sui modi di fare, sugli stili di vita, è chiaro che un macellaio può diventare vegetariano, ma non sarà certo un sostenitore dei vegetariani. Bene, baci! Grazie a tutti!